buongiorno sono qua stamattina perché finalmente sul mio sito lisarolfo.it sono usciti i corsi per parlare di permacoltura per parlare di agricoltura ma non soltanto in questi anni mi sono occupata come pedagogista di accompagnare un sacco di persone gruppi di persone singoli nel loro cambiamento di vita e quando ho incontrato la permacoltura in primis l'agricoltura sinergica me ne sono innamorata profondamente ho proprio pensato da pedagoga da colei che sa prendere per mano e condurre verso nuove strade che la permacoltura potesse essere davvero una risposta tra le migliori per poter cambiare il proprio modus pensandi proprio stile di vita e quindi ho conosciuto in primis l'agricoltura sinergica che è stata una tecnica agricola che mi è piaciuta tantissimo sin dall'inizio sicuramente avessi incontrato altre tecniche avrei usato le altre mi piace moltissimo anche e soprattutto l'approccio dell'agricoltura sintropica l'agricoltura biodinamica insomma tutte quelle agricolture naturali e rispettose di quello che è il rapporto di alleanza con la terra con l'obiettivo di rigenerare il suolo sicuramente visto la mia formazione precedente il mio obiettivo specifico è quello di aiutare le persone a rigenerare il proprio suolo la propria terra interiore utilizzando anche questa strumentazione per cui ho provato e ho deciso a un certo punto di fare solo questo realizzando oltre che tutta una serie di progetti pratici soprattutto dei progetti telematici dei videocorsi che ora sono pronti sono stati registrati e sono sul mio sito lisarolfo.it nella descrizione di questo video troverai il link per accedere direttamente ai corsi ci saranno nel corso del tempo delle promozioni per cui se ti iscrivi alla mia newsletter su lisarolfo.it non solo riceverai un pdf che è il mio primo racconto che si intitola Erbe Scalzo che parla proprio del mio cambiamento di vita attraverso la permacultura ma riceverai ogni tanto dei bonus dei coupon per poter avere delle agevolazioni delle promozioni proprio perché è iscritto alla mia newsletter quindi non ci resta altro che iniziare il mio sento e creare dei brevi video questo sarà un video introduttivo in cui andrò a descrivere i diversi tipi di videocorso di modo che tu possa oltre che leggere tre righe che sono scritte come descrizione del singolo videocorso avere anche un po' più chiaro rispetto a quelle che sono le opportunità che ti dà questo videocorso. Videocorso vuol dire ricevere un link che contiene il video che sarà tuo per sempre e tutto il materiale slide e a seconda del corso e anche dei contenuti bonus per cui non ci resta che iniziare al prossimo video in cui inizieremo a descrivere i ben 21 corsi per adesso pronti. A presto, ai prossimi orti, ciao!